Dalla comunicazione al marketing. Dopo l'università hai deciso di candidarti in P&G. Cosa ti ha spinto e cosa hai trovato? Ciao, sono Chiara Ferraccioli, ho 25 anni e sono CRM Brand Manager per P&G per te da sei mesi. Ho svolto i miei studi triennali in comunicazione a Padova, ma essendo estremamente interessata al marketing ho deciso di continuare i miei studi in marketing e comunicazione a Fosca di Venezia, dove mi sono laureata a marzo di quest'anno. Durante il mio percorso di studi il mio grande sogno ed obiettivo era quello di diventare Brand Manager ed avere un impatto sulle persone. Così durante l'università ho deciso di cercare una realtà che fosse dinamica e stimolante e che potesse aiutarmi a realizzare il mio sogno. Per questo motivo ho deciso di fare application in P&G. In primo luogo la cosa che più mi ha colpito all'interno di P&G sono le persone che ne fanno parte. Ogni giorno ho l'occasione e l'opportunità di poter lavorare ed incontrare persone stimolanti e intraprendenti che stanno rendendo il mio percorso di P&G unico, aiutandomi a crescere sia professionalmente e sia personalmente. In secondo luogo, sin da day one ho avuto l'occasione di poter innovare e fare la differenza, diventando owner di progetti e delle decisioni. È stupendo che tutte le persone in P&G possano apportare cambiamenti sia dalla fase iniziale di internship ma anche durante le fasi di New Hires. Questo permette di crescere costantemente e di affrontare nuove sfide. In conclusione, sono estremamente grata e felice che P&G mi sia dando l'opportunità di poter realizzare il mio sogno di diventare Brand Manager, permettendomi ogni giorno di crescere e dare il meglio di me stessa.